Ho sentito proprio di poter parlare, poter spendere qualche parola, così, sull'importanza della fede, fede, perché tante volte, sapete, siamo lì a cercare di convincere Dio, a cercare di sensibilizzarlo ai nostri problemi, a cercare forse di commuoverlo, di impietosirlo, ma Lui è pietoso, è giusto, Lui ha compiuto ogni cosa e sappiamo tutti quanti che è la nostra fiducia, è la nostra fede che deve crescere per poter prendere, per poter ricevere, per poter avere quello che Dio ha già preparato per noi. Abbiamo bisogno di crescere nella fede. Potremmo prendere tanti esempi, ma mi viene in mente, vogliamo leggere un episodio tra i tanti, dove la fede compie il miracolo, compie la trasformazione, cambia la vita delle persone e la persona in questione è una donna, una donna malata, è una donna disperata, una donna in crisi, una donna che ha difficoltà. E vogliamo da questo breve episodio raccontato dalla scrittura prendere spunto per riflettere un attimo sulla fede e soprattutto questa mattina per prendere in dono dell'acqua della vita, per stendere la nostra mano e ricevere quello che Dio già ha preparato per noi, che non possiamo ricevere con lo sforzo, non possiamo ricevere con l'intelligenza, ma attraverso la fede possiamo fare nostre le promesse di Dio. Fede e perseveranza, fede e pazienza per ereditare le sue promesse. Vogliamo leggere questo episodio in uno dei Vangeli? Leggiamo nel Vangelo più sintetico, che è quello di Marco, che stranamente però in questo caso ne parla più degli altri Vangeli, quindi è più sintetico però in questo racconto di questa donna spende più parole. E vogliamo leggerlo insieme al capitolo 5 di Marco, al verso 25. È un brano molto conosciuto, ma non dobbiamo avere paura di rivedere certe cose perché lo Spirito Santo vuole rivelarcele, perché diventino realtà, perché diventino esperienza nella nostra vita, non conoscenza, non teoria, ma esperienza della vita miracolosa che Dio ci vuole rivelare. Allora, una donna che aveva perdita di sangue da dodici anni, molto aveva sofferto da molti miei colleghi e aveva speso tutto ciò che possedeva senza nessun giovamento, anzi era piuttosto peggiorata. Avendo udito parlare di Gesù, venne dietro tra la folla e gli toccò la veste, perché diceva, se riesco a toccare almeno le sue vesti sarò salva. In quell'istante la sua emorragia ristagnò e della sentì nel suo corpo di essere guarita da quella malattia. Subito Gesù, cosciente della potenza che era emanata da lui, voltandosi indietro verso quella folla, disse, «Chi mi ha toccato le vesti?» I suoi discepoli gli dissero, «Tu vedi come la folla ti si stringe attorno e dici chi mi ha toccato?» Ed egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. Ma la donna, paurosa e tremante, ben sapendo quello che era avvenuto in lei, venne e gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità. Ma Gesù le disse, «Figliuola, la tua fede ti ha salvato, vai in pace e sii guarita dal tuo male!» Alleluia! E questa mattina lo Spirito Santo vuole realmente fare funzionare in una maniera nuova la fede di ognuno di noi, perché senza la fede è impossibile piacere a Dio, perché chi crede, crede che Lui è il remuneratore di quelli che lo cercano. Abbiamo bisogno di aderire al progetto di Dio, non con le emozioni, non con le sensazioni, non con l'intelligenza, ma deve scattare qualcosa di particolare, qualche cosa di forte, che è la fede, la semplice fede, la fede come di piccoli bambini. E una volta Gesù pregò e giubilò e disse, «Padre, ti ringrazio perché hai nascosto queste cose ai savi, agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli, ai piccoli e ai semplici». Ma torniamo un attimo a questa donna, brevemente non sto qui a dirvi, credo che ognuno di noi ha esperienza di malattie, ha esperienza di situazioni difficili, ha esperienza di situazioni in cui il livello umano di soluzione è basso. E per questa donna allora non esistevano rimedi medici, e la sua anemia la stava consumando, era spostata, era distrutta, aveva cercato di superare tutti i suoi problemi, aveva cercato, aveva speso tutte le sue risorse, tutte le sue energie. E questa mattina vogliamo vedere questa donna come tipo della Chiesa, come tipo di qualcuno che cerca di guarire, che cerca di essere liberato dai suoi pesi, che cerca di essere liberato da quello che lo blocca, che gli impedisce di vivere una vita esuberante, una vita gioiosa, una vita nella libertà. Questa donna è lì e dopo aver speso tutte le sue risorse, forse è già rassegnata, forse ha detto «non potrò mai cambiare, non potrò mai vedere un'alternativa nella mia vita». è un po' quello che ci succede a noi quando ci cimentiamo con degli aspetti, con dei problemi, non soltanto fisici, come la malattia fisica, ma anche problemi del nostro carattere, problemi delle nostre difficoltà, dove ci siamo sforzati, abbiamo speso tutte le nostre energie, tutte le nostre risorse per poter risolvere quella situazione, e anzi, come ci dice la scrittura per questa donna, spesso abbiamo persino peggiorato la situazione. Quante volte abbiamo cercato di risolvere dei problemi di vario genere economico, di malattie, di situazioni varie, e li abbiamo peggiorati piuttosto che risolverli. Questa è un po' l'esperienza comune quando possiamo contare semplicemente sulle nostre forze, sulle nostre energie, sulle nostre risorse. Ma qui c'è qualcosa di particolare. Questa donna, pur essendo chiusa nel suo dolore, pur essendo dentro forse rassegnata in qualche modo, pur avendo realmente forse imparato a convivere con i suoi problemi, cosa significa in questo caso? Che questa donna era molto limitata, doveva fare tre passi e si stancava, doveva forse fare una pulire, doveva pulire dieci minuti, si fermava, poi si riposava mezz'ora, poi un altro poco, perché certamente doveva fare le sue faccende. E inteso in senso spirituale cosa significa? Che la malattia, il peccato, le cose che ci opprimono, ci limitano nel nostro adoperarci, ci bloccano, ci impediscono realmente di vivere la vita di Cristo. E tante volte è drammatico come la Chiesa, si rassegni alla malattia, si rassegni al peccato, si rassegni all'impotenza. Questo non è quello che il nostro Dio vuole, che ci rassegniamo ai nostri limiti, che ci rassegniamo alle nostre incapacità, ma che dobbiamo scoprire qualcosa di bello, che questa donna cominciò a scoprire che tutto è possibile a chi crede. Tutto è possibile. E allora vediamo questa donna, che a un certo punto, sì, nella sua malattia, nella sua rassegnazione, però comincia, ascolta qualcosa, vede qualcuno, sente parlare di qualcuno, e questo qualcuno sappiamo tutti chi è, il nostro Salvatore Gesù. Alleluia! Ne sente parlare, probabilmente sente dire che anche lui è un grande medico, chissà come lo dipingevano Gesù in tutte le maniere. Certo, qualcuno aveva avuto la rivelazione che era figlio di Dio, ma qualcuno magari pensava questo è un grande medico, questo è un mago, questo è qualcuno che ha portato una scienza particolare. Certamente c'erano molte racconti intorno a questa figura particolare che si muoveva nella Galilea, nella Giudea, e intorno lì. E certamente questa donna sente anche che questa figura di Gesù ha una potenza particolare, sente che ha fatto dei miracoli, gli vengono a raccontare, ma sai, abbiamo visto quell'altro guarire e quell'altro stare bene, quell'altro liberato, e dentro di lei comincia a nascere qualche cosa, una speranza. Fratelli, questa è la prima parte che io vorrei un attimo sottolineare questa mattina. La fede tante volte viene preceduta da un altro gradino che noi chiamiamo la speranza. Noi, prima di entrare nella dimensione della fede, prima di ricevere, prima di realizzare, è come se avessimo bisogno di sperare, cioè di passare da quello stato di disperazione dove pensiamo che non esiste più una soluzione, dove già abbiamo gettato la spugna, dove già abbiamo detto non è possibile, ormai sono così, non ci posso fare niente, è il mio carattere, è la mia esperienza, è colpa di mio padre, è colpa di mia madre, è una malattia ereditaria. Quasi quasi troviamo centomila giustificazioni per essere limitati, per essere bloccati dalle nostre malattie e dai nostri peccati, ma la prima cosa che lo Spirito Santo coltiva nella tua vita è la speranza. Comincia a venire uno spiraglio, una speranza si affaccia nella vita di quella donna, comincia a sperare, ancora forse non ha creduto, ma comincia a sperare. ricordate che una delle definizioni della fede qual è? Certezza di cose che si sperano. Quindi la speranza è una prima parte, poi deve avere la certezza, questa donna inizia nella speranza e questa mattina io voglio incoraggiare, voglio esortare quelli che si trovano ammalati, quelli che si trovano schiacciati, quelli che si trovano oppressi, quelli che si trovano condizionati dai propri limiti, che siano l'amarezza, che sia il malo carattere, che sia qualunque cosa che ti vuole bloccare, che siano i pensieri impuri, che siano qualunque cosa che il male ha messo nella tua vita per trattenerti, voglio darti un messaggio di speranza. Spera nel Signore, spera in Lui, non stare lì a disperarti, non stare là a dire ma come farò, come non farò, lascia che lo Spirito Santo crei la speranza dentro di te e lo Spirito Santo cominciò a creare la speranza in questa donna, ma la speranza non era ancora la guarigione, la speranza era ancora una prima parte, la scrittura parla della speranza come un ancora per la nostra anima, un ancora dove ci possiamo aggrappare nei momenti in cui ci sentiamo dei naufraghi, ci sentiamo sballottati, non abbiamo più dove sbattere la testa, la speranza è un ancora e ci tiene fermi lì ad aspettare che si compiano i progetti di Dio nella nostra vita e questa donna la vediamo andare a questo punto da la speranza comincia a crescere qualche cosa, evidentemente aveva sentito dire che Gesù guariva, aveva ascoltato la predicazione, perché sappiamo tutti quanti ma lo vogliamo risottolineare questa mattina che la fede viene dall'udire la predicazione, la fede non viene così dal niente ma viene dall'ascolto della parola di Dio, viene dall'ascoltare quello che Dio dice, non viene dal telegiornale la fede, non c'è niente di male di sentire il telegiornale ma non ci viene fede quando sentiamo il telegiornale, anzi, conosco tante persone che non riescono più ad accendere e a seguire tutte le vicende tremende che il nostro telegiornale ci comunica perché si sconvolgono più di quanto già non lo sono quindi dice no, non lo vogliamo sentire, la fede non viene dal mangiare di più, la fede non viene dal guardare qualunque spettacolo, la fede viene dall'udire la predicazione, la parola di Dio dal meditare ecco perché abbiamo grande bisogno di ricevere con semplicità la parola di Dio che è stata piantata nella tua vita e che può salvare le tue anime che può guarire abbiamo bisogno di accoglierla e questa donna aveva sentito parlare aveva sentito che Gesù guariva e questo prima diventò una speranza come a dire era disperata aveva speso tutto aveva provato tutto ma prima diventò una speranza spero e la speranza cominciò a muoversi nella sua vita ma cominciò a trasformarsi in una fiducia in una fede cominciò a diventare qualche cosa di più forte cominciò a diventare una certezza cominciò a lavorare nel suo cuore e non rimase una semplice speranza tanto è vero che noi la vediamo in qualche modo andare tra la folla farsi spazio e dire questa espressione molto bella al verso 28 se riesco a toccare la sua veste almeno la sua veste sarò salva alleluia ma chi gli aveva dato quella certezza allo spirito santo chi gli aveva portato dentro quella rivelazione l'ascolto il sapere che Gesù guariva questo aveva creato fede nella sua vita e questa fede cominciava a funzionare si stava muovendo stava partorendo stava raggiungendo il risultato e questa mattina abbiamo bisogno fratelli di passare dalla speranza alla fede non ci possiamo fermare alla speranza non possiamo dire speriamo semplicemente speriamo è già una tappa importante abbiamo sperando contro speranza credette anche lì vediamo questo passaggio speranza fede non possiamo fermarci alla speranza non possiamo dire semplicemente spero di cambiare spero di guarire questo è importante ma dobbiamo andare oltre e questa mattina è la parola di Dio che ci dà lo stimolo che ci dà l'incoraggiamento a credere a credere a credere e abbiamo bisogno di farlo fratelli non ci sono altri mezzi per vincere non ci sono la nostra verità è per grazia affinché sia per fede non ci sono altri sistemi molti magari pensano dice sì la salvezza è per grazia poi però dobbiamo conquistarcele le cose ma come conquistarcele ricordate i Galati stavano incorrendo in questo grande problema volevano raggiungere la perfezione con lo sforzo della carne e paolo li esorta gli dice insensati ma come l'avete ricevuto lo spirito santo per lo sforzo umano perché vi siete concentrati vi siete sforzati o per la predicazione della fede e allora abbiamo bisogno di riscoprire di scoprire in una maniera nuova una fede che realizza le promesse di dio e questa donna quindi vediamo tutto questo processo che si svolge in questa donna prima con timidezza poi una certezza nasce dentro di lei se io tocco sono guarito come a dire ho compreso che in Cristo c'è la soluzione che in Cristo c'è la guarigione che in Cristo c'è la liberazione e lì certamente si deve fare spazio tra la folla si deve fare spazio tra tante situazioni che gli possono impedire di avere fede e noi non dobbiamo tante volte farci spazio per la folla perché Gesù non è in un luogo fisico per cui non dobbiamo accalcarci come spesso purtroppo succede negli ultimi tempi dice la scrittura molti diranno Cristo eccolo qua Cristo eccolo là attenzione non andate dice perché vero è che dio si può manifestare in certi posti o in certi luoghi ma quei luoghi non significa che diventano più importanti di altri luoghi e quindi magari se quel luogo è il luogo di guarigione tutti ci lanciamo e magari ci ammazziamo per cercare di essere guariti perché ognuno vuole toccare quel luogo non è questo ma Gesù è qui lo Spirito Santo è qui questa mattina allora qual è la folla che ci impedisce è la folla dei nostri pensieri sono le nostre paure sono le nostre incredulità la nostra razionalità le nostre sensazioni le nostre emozioni sono come una folla tra la quale ci dobbiamo fare spazio per poter prendere in dono dell'acqua della vita questa mattina fratelli e vogliamo veramente capire che questo è la nostra difficoltà lì dove la speranza è cominciata a funzionare dove la fede si sta sviluppando c'è ancora qualche cosa che ci ostacola ma poi riuscirò ma poi cambieranno veramente le cose ma poi riuscirò a mantenere i risultati ma poi riuscirò veramente a essere libero dalla paura dall'angoscia da questa malattia ma poi ecco noi già quasi là dove stiamo imparando a credere già cominciamo a ragionare cominciamo a pensare dopo cominciamo e questa è la folla tra cui ci dobbiamo fare spazio per toccare la presenza di Cristo per essere sanati per essere guariti questa donna si fa spazio nella sua debolezza e tocca il lembo della veste di Cristo alleluia il lembo della veste non tocca neanche il corpo non tocca il lembo della veste ricordate che quando l'unzione si manifestava nella chiesa primitiva persino l'ombra degli apostoli l'ombra come a dire l'emanazione la presenza l'unzione dello Spirito Santo toccava e guariva e sanava gloria al Signore lo Spirito Santo è pronto lì per guarire ma aspetta il tuo tocco di fede Gesù viene toccato e poi sentiamo fa qualcosa ma voglio un attimo farvi riflettere la donna non sta lì a lamentarsi non sta in quel caso a dire chiamate Gesù che sto male non sta a dire mandatemi il medico dei grandi medici non sta lì a lamentarsi non sta a cercare di attirare l'attenzione dicendo qualcuno mi aiuti sto morendo non ce la faccio più no questa donna prende questa risoluzione di fede partorisce attraverso la sua fede il miracolo e infatti questo lo vediamo perché dopo che la donna tocca dopo che la fede funziona dopo che la fede si esprime avviene il risultato certezza di cose che si sperano dimostrazione di cose che non si vedono lei non vedeva ancora ma la dimostrazione di quello che era nell'invisibile la guarigione diventa realtà per lei in quel momento stesso in quel momento stesso il flusso di sangue si stagna quella donna riceve nel momento stesso in cui esprime la sua fede gloria al Signore c'è una grande lezione questa mattina per ognuno di noi c'è una grande lezione abbiamo bisogno veramente di essere un popolo di fede fratelli e di fede non soltanto per ottenere la guarigione fisica che è un aspetto importante ma senza dubbio marginale ma fede per vincere i nostri nemici fede per essere liberati dalle paure fede per essere liberati dalle parti del nostro carattere in cui pensiamo di non poter cambiare fede per vincere è lì quella espressione in cui Gesù si volge alla folla vuole dare una grande lezione lui ne approfittava sempre e se dovessimo localizzare questa scena vediamo che si svolge in mezzo a tante altre scene da una parte si era parlato pure del vino nuovo negli otti nuovi dall'altra parte lui stava andando già dalla figlia di Iario Iario che era morta erano chiamato di qua per fare quest'altro miracolo e qua incontra questa donna la vita di Gesù era un muoversi continuo nel miracoloso ma Gesù vuole dare una lezione anche in quel caso e dice alla folla chi è che mi ha toccato chi è che i discepoli naturalmente si meravigliano perché? perché evidentemente essendo accalcato erano tutti intorno a lui ma chi mi ha toccato con fede chi realmente crede chi onora la mia presenza attraverso la fede è questo che questa mattina il Signore vuole dire a ognuno di noi chi realmente mi vuole toccare con fede chi vuole prendere per fede non sarà sicuramente deluso alleluia gloria al Signore e questa donna timidamente timidamente gli dice sono stata io è la parte su cui ci fermiamo un attimo e poi vogliamo veramente credere sperimentare realizzare questa parola anche questa mattina in parte anche se Dio vuole che diventi uno stile di vita non un momento particolare di fede che ogni giorno possiamo imparare a toccare la veste di Gesù lì dove siamo confrontati con i nostri problemi con le nostre malattie con le nostre difficoltà col nostro cattivo carattere con i nostri sentimenti e risentimenti possiamo nella folla sempre essere lì e con un atto di fede prendere quello che Dio ha preparato per noi e non subire quello che il diavolo invece ha preparato per noi sapete che ogni giorno il diavolo ci ha preparato una giornata pazzesca tremenda di tentazioni di oppressioni di richiami vari di schiacciamenti di situazioni strane ogni giorno c'è una una grande cappa che vuole schiacciarci e tante volte siamo incappati o scappiamo però la cappa ci segue ma chi chi realmente impara a toccare per fede il lembo della veste di Cristo chi impara a camminare per fede imparerà a vincere il giusto vivrà per fede dice la scrittura il cammino del cristiano è di fede in fede non ci sono altri mezzi abbiamo bisogno di resistere al diavolo stando fermi nella fede anche lì non ci sono altri mezzi resistete stando fermi nella fede Dio ci ha dato uno scudo nell'armatura del cristiano che è di fede noi tante volte lottiamo col buon senso col ragionamento ci mettiamo a fare tanti ragionamenti e perdiamo ma questa mattina vogliamo essere come questa donna vogliamo essere come questa donna che riceve questa parola bellissima da Gesù non solo riceve la guarigione alleluia e questo sicuramente per lei è una svolta determinante immaginate tutto quello che non poteva fare tutto quello in cui era limitata tutte le sue difficoltà tutti i suoi problemi di colpo hanno una svolta grandissima questa donna diventa capace di alzarsi di camminare di lavorare di servire gli altri e non è lo stesso forse con la vita del cristiano che liberato dal fardello del peccato liberato dalle sue difficoltà diventa uno strumento di aiuto per gli altri liberi per servire liberi per amare donna figliuola dice una traduzione figliuola vai in pace la tua fede ti ha sanato alleluia in pace ci alziamo in piedi donna vai in pace e in questo donna questa mattina figliuola figliuolo vogliamo mettere ognuno di noi questa mattina figliuolo se tu puoi sperare ti dice il signore se tu puoi credere la tua fede porterà una pace in te ti libererà da quello che in questo momento è il tuo handicap da quello che in questo momento è il tuo blocco da quello che in questo momento sono quelle cose che ti stanno schiacciando e che tu stai cercando di portare di sforzarti di ragionare di vedere come riuscire a farcela ma senza la fede non ce la farai ma questa parola questa mattina è per stimolare fede in ognuno di noi perché di fronte alle difficoltà di fronte ai problemi di fronte alle malattie di fronte a tutto quello che ci viene incontro possiamo sentirci dire Giuseppe Piero Ivana vai in pace la tua fede ti ha liberato dalla paura la tua fede ti ha liberato dall'amarezza la tua fede ti ha fatto vincere sul diavolo la tua fede ti ha liberato da quella malattia la tua fede certo è Gesù che guarisce certo è lo spirito santo ma senza questa fiducia la potenza di Dio rimarrà lì latente senza una manifestazione rimarrà nel mondo invisibile rimarrà un'eredità che è intestata per te preparata per te ma che non riuscirai a prendere perché continui a ragionare continui a pensare continui magari a dire Dio dammi 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 e Dio ti dice prendi figlio mio questa mattina impara a camminare per fede impara a vincere per fede impara e concludendo vogliamo dire che la fede è qualcosa che Dio ci ha donato perché qualcuno dice ma magari Dio a me non mi ha dato fede ma che come non ti ha dato fede Dio dice la scrittura ci ha dato una misura di fede forse la tua misura è piccola e va bene ma qualcuno dice che la fede è come un muscolo se lo teniamo cresce se lo teniamo fermo cosa fa il muscolo si atrofizza e se tu anziché camminare per fede hai camminato semplicemente per ragionamento per sentimenti per sforzo umano il muscolo della fede piano piano è finito non te lo ritrovi più ma questa mattina Dio ti dice forza mette i muscoli mostra i muscoli della fede figlio mio mostra i muscoli della fede figlia mia e vedrai che tutto è possibile a chi crede alleluia gloria al Signore e vogliamo veramente questo momento anche nel momento in cui ci accosteremo ora alla Santa Cena nel momento in cui prenderemo del pane prenderemo del vino avere questa fede forte nella potenza di Dio ma per un momento vogliamo pregare ora se c'è Paolo da qualche parte lo vorrei alleluia fratelli io sento che tra di voi ci sono alcuni che si sono stancati si sono esasperati perché hanno cercato di portare i pesi con lo sforzo umano hanno cercato di essere santi con gli sforzi umani ma non ci riuscirai mai hanno cercato di guarire con tanti sistemi e mezzi umani ma non ci riuscirai mai ma questa mattina lo Spirito Santo ti dice che attraverso la speranza prima e attraverso la fede puoi prenderti quello che Dio ti ha già dato fratelli Dio ha già fatto la sua parte Dio ha già fatto ma cerca delle persone con una determinazione con un coraggio di farsi avanti come questa donna di non stare lì a lamentarsi e dire povera me come sono sfortunata tutto mi va male c'è pure questa malattia no Dio non vuole le persone così Dio vuole le persone che nelle loro difficoltà nei loro problemi si rialzino rientrino in se stessi e dicono io toccherò il lembo della veste di Cristo e sarò sanato e sarò guarita Dio cerca un popolo di fede quando verrà il figlio d'uomo sulla terra troverà fede e io dico Signore insegnaci veramente sovvieni alla nostra incredulità insegnaci perché vogliamo essere un popolo di fede un popolo di credenti non un popolo di increduli un popolo di credenti aiutaci Signore e vogliamo però intanto ascoltare la sua parola meditare sulla sua parola che il suo libro non si diparta dalla nostra vita meditiamolo giorno e notte perché questo creerà fede 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 le cose stanno come Dio dice e non come noi diciamo la fede si poggia su quello che Dio dice e vogliamo un attimo pregare in questo momento e voglio incoraggiare quelle persone che vogliono fare uno slancio di fede